E tutto fumo, tutto fumo, niente di più. Ti spiego perché. Una delle domande che mi viene fatta più spesso è come approccio gli investimenti, che cosa fa muovere i prezzi, insomma tutta una serie di domande che vanno a colpire le dinamiche del mercato, ma una è la risposta, è che la maggior parte di cose che abbiamo intorno non sono nient'altro che fumo, nulla, niente, zero. Lo so è un claim forte, lo so può suonare strano, detto da uno che investe, che si muove nei mercati da tempo, però è così ragazzi, dobbiamo prenderne atto, dobbiamo capire che è tutto fumo, è tutto fuffa. Prezzi delle aziende, quando vai nei mercati stock, quando vedi tutti i tipi ingasatissimi a Wall Street, compro, vendo, compro, vendo. Cosa? Pezzi di carta inutili, stai semplicemente muovendo fumo, tanto fumo. Esce la notizia, tutti a comprare, esce la notizia, tutti a vendere. Questa roba qui è fumo, non è neanche lontanamente considerabile investimento, veramente. È tutto una marea di fumo, è tutto un giocare, uno speculare, è tutto uno speculare. Io vado, punto, faccio, prendo questo, vendo l'altro, uè sì, cresciuto il prezzo, ma in base a cosa? In base a cosa? È una lotta moderna, nel colosseo moderno, tra gladiatori moderni. Non sono più gladiatori con la spada, lo scudo, ma sono gladiatori con la giacca e la cravatta, che giocano, che speculano, che cercano di vincere, di sconfiggere l'altro. Perché quando uno vince perché ha venduto a un ottimo prezzo, è perché dall'altra parte c'è chi ha perso vendendo a un pessimo prezzo. Quindi puoi comprare bene e vendere bene, puoi comprare male e vendere bene, puoi comprare male e vendere male. Insomma ci sono 350 miliardi di possibilità, ognuna di queste però implica che sono io contro un'altra persona. Io che combatto un gioco, il gioco degli investimenti, il gioco della speculazione, dei titoli, ma questo vale per i titoli azionari ragazzi, ma vale per qualsiasi altra cosa. È tutto fumo. Dall'altra parte c'è chi guadagna, c'è chi guadagna dalle transazioni, c'è chi ti mette, chi è il proprietario del Colosseo, chi fa pagare il biglietto per entrare al Colosseo e ti mette lì il giochino. Andate, giocate. Intanto guadagna sulle spalle di chi gioca, sia di chi vince, sia di chi perde. È lì che c'è il business. Per quello dico è tutto fumo, è un mercato che vende l'illusione della ricchezza. L'illusione perché? Perché alcuni diventano ricchi veramente, alcuni fanno veramente soldi. Ma la maggior parte ragazzi perde. È inutile che ci buttiamo sui mercati senza strategie, senza nulla. Ci dobbiamo essere consapevoli di che cos'è il mercato. Il mercato è un enorme muro di fumo. Ora possiamo decidere di infilarci dentro questo muro di fumo con le maschere antigas, oppure ci possiamo lanciare allo sbaraglio comprando e vendendo come capita. Però tutto parte dalla comprensione e dalla conoscenza di che cosa sono le cose e di come funzionano. Il mercato azionario è fumo. Il mercato degli indici è fumo su fumo. Tutto, tutto e tutto fumo su fumo su fumo. Un'enorme bolla di fumo costruita su un'altra bolla di fumo che è costruita su un'altra bolla di fumo. E il mercato della decentralizzazione, anche quello è fumo. Devo dirlo. Io ci lavoro, ci gioco dentro, ci faccio un sacco di cose, ma la vera decentralizzazione, ragazzi, è tutt'altra cosa. Non possiamo parlare di vera decentralizzazione quando utilizziamo i server internet per muoverci, quando utilizziamo Google, quando utilizziamo tutta una serie di servizi. Quando tutta la DeFi ruota intorno all'oracolo di Chainlink, quando tutto ruota intorno a questa azienda. Ti sei mai chiesto chi sono gli investitori di questa azienda? O meglio, chi c'è tra questi investitori? Ci sono dei big, dei grossi fondi. Anche questa è un'illusione. Sì, posso comprarmi le mie valute digitali, mettermene nel mio portafoglio decentralizzato, legger piuttosto che, e sono decentralizzate in quel momento, sì, perché sono offline, sono decentralizzate, ma nel momento in cui io torno sulla rete per scambiarle, perché le voglio vendere, quello scambio passa attraverso Chainlink, che mi va a dire quali sono i prezzi, ma Chainlink non è controllato dal popolo. Quando vado a utilizzare Metamask, chi ha investito su Metamask? Quali grossi fondi hanno investito su Metamask? Quando vado a utilizzare gli exchange, quelli centralizzati, Coinbase, piuttosto che chi ci ha investito sopra, chi ci investe sopra. La vera, pura decentralizzazione è lo scambio tra me e te, diretto, senza intermediari e senza dover fare il conto. Io ti do un BTC che vale a 0,200... No, tutta sta roba qui non ha senso. Io non devo neanche curarmi di cos'è Euro-Dollaro, queste robe qui, dei valori. Io ti devo dare un BTC... Quanto costa sto cosa? Un BTC, punto! Non un BTC che equivale a 100 euro, 1000 euro, 10.000... No! Quando finalmente si avrà coscienza di questo? Quando finalmente si avrà coscienza di questo scambio che è da me a te, tramite una valuta, che è una valuta a sé, che non devo andare a confrontare con altro per avere il controvalore, quando un... Cacchio ne so, un terreno mi costa un BTC, punto! Non mi costa... Vediamo, 200.000 euro che corrispondono a... No! Mi costa quello, fine! E tu prendi quel BTC e compri qualcos'altro con quel BTC, quando si raggiunge questo livello, forse allora in quel momento possiamo parlare di vera decentralizzazione, di vero invio di denaro. Purtroppo tutto il mercato della decentralizzazione, tutto ciò che va oltre Bitcoin e... E questo mi spiace dirlo perché è partito molto bene, io sono stato veramente un sostenitore della decentralizzazione, della DeFi, di tutti questi protocolli che penso siano ancora intelligenti, assolutamente, ma tutta questa roba qui è stato un riportare, riportarci indietro alla finanza tradizionale portata sulla blockchain. Semplicemente quello. Perché nascono tutta una serie di aziende, tutte con obiettivo speculativo, tutte che puntano a venderti il loro token e crea e cresce il prezzo del token e fanno tutti copia e incolla di quello che fanno gli altri. Tutta sta roba qui, ragazzi, è pura speculazione. Cioè non cambia niente, è come avere veramente il mondo tradizionale, le azioni del mondo tradizionale portate su blockchain. La vera rivoluzione è stata nel BTC. È la tecnologia in particolare che ha portato BTC, ma quella tecnologia deve essere utilizzata con cognizione di causa, deve essere utilizzata per ottenere veramente una decentralizzazione, non per essere il pretesto di ricostruire un'economia tradizionale in versione 2.0, che sarà migliorata per carità, ma sempre quello è, sempre la solita solfa, sempre la solita speculazione. E ti parlo da speculatore, ti parlo da uno che fa trading, ti parlo da uno che investe, ti parlo da uno che scommette, cioè ti parlo da questo tipo di persona che è dentro questo mondo, ma comprende come funziona questo mondo. Comprende che è tutto fumo, è tutto basato su fumo, su claim, su aspettative di quello che sarà. È tutto basato su questo. Wall Street, tutto il mondo tradizionale, tutto il mondo degli investimenti, è tutto fumo, né più né meno. Si compra e si vende fumo. E la maggior parte di persone dentro lo fanno senza strategie e si fanno male. Quando è stato aperto il trading a tutti, la possibilità di accedere al mondo degli investimenti a tutti, perché una volta avevi il tuo consulente finanziario, chi aveva soldi, chiamava ed era l'omino che andava lì e piazzava gli ordini a Wall Street e gridava. Oggi è tutto tramite cellulare ragazzi, tramite pc, è tutto velocissimo e tutti possono accedere. Ma secondo te, se hanno aperto a tutti questa palestra, questo grande colosseo, l'arena, il foro, il forex, se hanno aperto a tutti questa roba qui, è perché vogliono che guadagni o è perché vogliono che scambi e loro guadagnano? Devi partire consapevole che il gioco che stai giocando è un gioco ad alto rischio. Devi partire consapevole che il gioco che stiamo giocando è fumo. Devi capire che il denaro che usiamo è fumo. Devi capire che tutta la nostra società è basata su un enorme, gigantesco muro di fumo. È tutto fake, è tutto falso. Questa roba qui, su cui abbiamo costruito la società, che viviamo, che per carità progredisce tutto quello che vuoi, è basata su fumo, è basata su pezzi di carta che non valgono nulla, è il denaro. Non hanno più alcun valore, non sono più ancorata niente. È basato sul concetto che l'inflazione è un bene perché stimola le persone a comprare, che è falso, perché le persone comprano. Per forza, per forza, non è che tutti possano produrci tutto. Siamo obbligati a scambiare, fa parte del nostro essere. Quindi non è che se tu mi stimoli l'inflazione mi obblighi a indebitarmi e mi obblighi a lavorare di più per produrre di più, perché questo è. Non c'entra niente il consumo, non c'entra niente lo spendere. Tutte queste dinamiche, ragazzi, sono fumo e non te lo dicono perché ovviamente non te lo possono dire. È tutto basato sul fumo. Non è più nulla basato sul valore reale, su quello che porti veramente sul mercato, sul valore. E ce lo dimostrano tutte le meme che escono, ce lo dimostra tutto. È tutta speculazione. È tutta pura speculazione, niente di più. È tutto, tutto fumo e continuo a ripeterlo. Dobbiamo essere consapevoli, consapevoli di queste dinamiche, perché solo con la consapevolezza di queste dinamiche sappiamo come affrontarle. E l'unico modo, ragazzi, per vincere, o meglio, per non perdere all'interno di questo gioco è giocare bene. E per giocare bene devi conoscere le regole. E le regole non le facciamo noi. Le regole le fa chi c'è lassù. Chi c'è lassù che sta lì a dirti, a controllare i mercati, che sta lì a puntare e far crollare un mercato perché ti vende una valuta o ti vende un asset, un'azione. Queste dinamiche qui. Possiamo controllarle noi solo nel momento in cui siamo tutti uniti. Ad oggi non siamo tutti uniti perché nel Colosseo, e questa è la cosa incredibile, tu prendi il Colosseo, ci metti dentro una manciata di persone che combattono, cento, mille, tutto quello che vuoi, le metti dentro a combattere. Se queste persone sono troppo impegnate a combattere tra loro, non si coalizzeranno mai a combattere contro chi invece sta governando quel Colosseo lì. È successo con la Wall Street Bets, è successo quando le azioni di GameStop sono state fatte pompare liquidando un botto di soldi e lì si è visto veramente quanto è manipolato il mercato. In quella fase lì si è visto veramente quanto il mercato fosse strettamente, di qualsiasi tipo, anche nell'ambito della decentralizzata. Tutto estremamente, estremamente manipolato. lì si è visto da un lato quanto l'unione possa veramente essere potente perché un movimento creato da internet, che poi anche lì ci sono tutta una serie di speculazioni dietro perché pare che sia partito in realtà da un investitore molto furbo, vabbè, comunque al di là di quello, in ogni caso un gruppo coeso su internet che si è diffuso a macchia d'olio, utilizzando la comunicazione internet, è andato ad acquistare un'azienda che stava per fallire, GameStop. Quindi ci stavano shortando sopra, andando quindi in vendita pesante, le grosse aziende. Hanno comprato e hanno iniziato a far salire il prezzo come se non ci fosse un domani, facendo veramente liquidare miliardi e miliardi e miliardi di dollari a tutte queste banche che hanno rischiato veramente di dare il giro. Finché poi non sono stati bloccati i rubinetti, sono stati bloccati i take profit e così è stata, diciamo, richiusa la forbice e contenuto il danno. Però questa roba qui, che ha messo in ginocchio o aveva la possibilità di mettere in ginocchio Wall Street, è stata bloccata da Wall Street e questo cosa significa? Questo ci dà la prova lampante che è tutto fumo, che è tutto manipolato, che è tutto un gioco. E noi possiamo giocare e prenderci il nostro pezzettino di torta dentro, oppure se cerchiamo di prendere la torta ci fanno fuori. Funziona così. Quindi mi raccomando, massima consapevolezza del mondo in cui viviamo, quello degli investimenti, defai, non defai, tutto. La maggior parte è fumo. Metto da parte BTC. Tienilo da parte. Non considerarlo. Consideri il resto. La maggior parte del resto, ragazzi, è veramente solo fumo. Noi dobbiamo essere in grado di concepirlo, di capirlo, di capire come funziona e di andare a specularci, se vogliamo specularci, se vogliamo far parte di questo gioco, vogliamo prendere la nostra parte all'interno di questo gioco, lo possiamo fare, ma lo dobbiamo fare coscienti di che cosa stiamo facendo, coscienti di come funziona, coscienti che bisogna avere una strategia, bisogna avere delle capacità, bisogna conoscere le regole almeno un pochino del gioco. Le regole con cui giochiamo noi, non le regole con cui giocano dall'altra parte loro. Questo è come funziona il mercato, come funzionano gli investimenti. La maggior parte di quello che abbiamo intorno, ragazzi, soldi compresi, è fumo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.